Posso dire che le cause di questo voto plebiscitario al Movimento 5 Stelle sono diverse, dalla richiesta di assistenza di ceti realmente colpiti dalla crisi e in estrema povertà, alla protesta di molti laureati disoccupati che non trovano impiego nelle regioni meridionali, dalla protesta di molti piccoli e medi imprenditori edili che lavorano per la pubblica amministrazione e tardano ad incassare le fatture per il loro lavoro, alla protesta di chi lamenta disservizi nella sanità pubblica che spesso in molte zone ritarda le analisi per i pazienti. Poi vi sono altri disservizi di comparti della pubblica amministrazione in alcune regioni del messogiorno per cui le cause sono molteplici e non è tutto riducibile ad una richiesta di assistenza attraverso il godimento del reddito di cittadinanza.